e appoggiamo 30 centimetri e poi costruiamo il triangolo e appoggiamo guardiamo gente e poi schiena basso 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 fermi 1 2 3 alziamo 1 2 3 poi prendiamo si posano qua e struscia e tiene così dritto apriamo e dimettiamo così eh già leghiamo 1 2 3 4 poi pone olige e questo è diverso ah questo è diverso è diverso proprio avanti così facciamo cambio 2 6 ecco 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 così 3 4 5 ok ce la parlano tutti eh allora questo per mettere a posto mettete diritto e poi organizziamo tutte insieme e poi si mette a posto proviamo con veloce con velocità sta uno due tre quattro cinque sistemiamo uno due tre quattro cinque uno uno tre quattro cinque eh se vuole Cecilia eh ma vediamo con due forse questo forse questo un due brava ecco perfetto ora anche Cecilia ti ha posto ahahahahah sta uno due tre quattro cinque sistemiamo uno due tre quattro cinque ok questo è posto allora un cliente ha detto l'ambrusco questo può essere ah questo sembra bottiglia no? sì questa è bottiglia io l'ambrusco prego apriamo una e fai così eh l'ambrusco apri enti ah scusa me l'ho sbagliata brava prego prego e poi schiera 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 diritta credi offerta un bicchierino allora come facciamo a prendere? un bicchierino dov'è? ci allora prendiamo davvero grazie io bello eh tu prendi così sbagli si pasare Anche per questo, per tirare un po' di pezzo, no, da questa parte, così, bottiglia fatta così, grazie, io bevo e poi beso anche a te, no, io sono maschio, così, beso così, bene, brava, e poi sei ubriacata, ci senti stanchezza, brava, brava, così, va bene? Grazie.